Eccoci, bentornati, la rana nel pozzo, nuovo appuntamento, oggi ospita Rieti Life TV il sindaco di Greccio Emiliano Fabbi. Buonasera a voi, a tutti, ringrazio innanzitutto di questo invito. Come sta Fabbi? Tutto bene? Abbastanza bene, nei limiti che la situazione consente diciamo però. Certo, 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 lei ha un bel nome, deduco il motivo per cui me lo dico. Bene, lei sa, ci conosce un po' la rana nel pozzo, parliamo di politica, di attualità, un po' di tutto, in maniera soft, leggera, però speriamo di essere adeguato e dare le risposte corrette. Come no, come no, affrontiamo anche temi importanti di un paese che è conosciuto in tutto il mondo, insomma, cioè lei è sindaco di un paese conosciuto dappertutto, che si prova? Sicuramente è da una parte un grande onore, sicuramente essere primo cittadino e rappresentare una comunità e un borgo, un paese, una piccola città che appunto rappresenta così tanto in termini di storia, di religione, di cultura per tutto il mondo, quindi sicuramente è un onore, è anche un onere, chiaramente le due cose vanno sempre di pari passo e quindi diciamo ne sono ben orgoglioso. Lei è grecciano proprio? Non sono grecciano, sono grecciano diciamo da adozione, quanto da tantissimi anni lavoro e di fatto vivo. Parliamo anche del suo lavoro dopo, anzi parliamo subito, lei è il farmacista, farmacista è un'altra figura importante all'interno di una comunità, di un paese, ricordiamo Greccio fa circa 1500 abitanti, insomma, come concilia queste due situazioni? Sicuramente quella del farmacista è un ruolo che anche oltre che sanitario è diciamo simbolicamente importante, soprattutto ancora adesso per le piccole comunità è un punto di riferimento a 360 gradi e di questo appunto è un altro dei punti di cui sono estremamente orgoglioso. Sicuramente far convivere queste due anime e queste due attività non è sempre semplice, però cerco di mettercela tutta insieme anche ai miei collaboratori in farmacia per far sì che il servizio rimanga sempre all'altezza e che io sia all'altezza di fare il sindaco. Recapita che vengono, allora mi dia una tachipirina, adesso senza fare pubblicità, e poi però un problema sotto casa, una buca, tutto in tutto. Quello è un classico insomma, per cui assolutamente sì, cerchiamo di dare risposte soddisfacenti ad entrambi. Diamo tachipirina e poi verremo a risolvere. Risolvere anche il resto. Bene, lei poi tra l'altro, a parte molto giovane, arriva dopo uno strapotere, chiamiamolo così, di Rosati, c'è Antonio Rosati che ha governato Grecia per anni, quindi anche qui un piccolo successo, un piccolo orgoglio penso, no? Sicuramente sì, quella che abbiamo vissuta è stata una competizione elettorale sicuramente importante che ha visto la nostra lista, il nostro gruppo che abbiamo chiamato Grecia in Cammino, confrontarsi sicuramente con una realtà ben presente nel nostro territorio. Sicuramente la comunità greciana ha chiesto a me, al mio gruppo in generale, una certa discontinuità rispetto al passato, nonostante io abbia fatto la mia prima consigliatura insieme al sindaco usciente, da cui però nel 2017 insieme ad un'altra consigliera comunale facemmo un gruppo che si chiama a suo tempo Grecia Solidale, un gruppo consigliare che aveva appunto un'idea attorno al quale si è coagulata tutta una serie di associazioni, di persone che effettivamente chiedevano un cambio di passo e noi speriamo di essere all'altezza e di dare risposta a questa richiesta della nostra comunità. Bene, un rinnovamento sostanzialmente e siete stati premiati, Rosati poi come l'ha presa? Noi siamo chiaramente in ottimi rapporti personali, però chiaramente abbiamo due modi diversi che si sono confrontati rispetto a determinate visioni dello sviluppo del nostro territorio. Certo, certo. Lei è di centrodestra, di destra, di sinistra si può dire? Sì, lo posso dire tranquillamente, io come cultura sono di centrosinistra, la nostra però è sicuramente una compagine assolutamente civica, per cui esprime tutte le sensibilità che sono presenti nel nostro territorio. Bene, non sono tutti di sinistra quelli che governano. Assolutamente. Va bene. E di questo ne facciamo anche un certo vanto, perché crediamo che per amministrare bene i territori non servano sempre delle spinte ideologiche, ma più che altro anche delle risposte pratiche. Questo lo pensa solo di Greccio, comunità come Greccio o lo pensa anche in città magari più grandi? Sicuramente credo che un approccio civico sia importante e che possa guardare a orizzonti molto ampi. Questo però chiaramente in realtà più piccolo è più semplice, chiaramente in realtà dove la politica comunque assume anche dei ruoli diversi è più difficoltoso come percorso. Bene, ho sempre pensato che amministrare è diverso da fare politica, però magari il governo di adesso un po' ci sta dando un insegnamento, ci stanno tutti. Sicuramente una parentesi storica che ha richiesto questo percorso di unità. Potrebbero starci anche in piccole comunità. Comunque sul discorso di amministrare è diverso, anch'io condivido che spesso sono due aspetti che sono non sempre sovrapponibili. Sì, ho sempre pensato che il sindaco indossa poi quando diventa sindaco una casacca, una maglia e fa parte della squadra dei sindaci, l'ho chiamata così, che è diverso da fare politica, fare a volte propaganda politica perché ne abbiamo un esempio anche di questo. Però è assolutamente vero e credo che questo periodo, soprattutto ultimo, quest'ultimo anno e mezzo ci abbia fatto ragionare molto in questi termini perché poi i sindaci si sono trovati tutti ad affrontare delle problematiche similari a quel punto lì, la varia casacca, le varie casacche o le varie forse devono venire meno rispetto ad un interesse collettivo. È quella fascia tricolore, che quando si arriva in un posto siamo la squadra dei sindaci che poi tra l'altro lei confina, anzi non solo confina, è un po' accerchiato dal comune di Contigliano Sì, confiniamo con diversi comuni, però sicuramente Contigliano E come si trova con il sindaco Lancia che è venuto anche qui da noi? Con il sindaco Lancia abbiamo ottimi rapporti e anche per esempio durante il periodo dell'emergenza nella prima fase dell'emergenza Covid abbiamo lavorato veramente insieme in maniera coordinata anche per risolvere problemi importanti come è stata quella di alcune strutture per anziani che hanno rilevato in quel periodo degli importanti problemi e quindi ci siamo sempre confrontati abbiamo anche presentato alcune progettualità insieme, quindi abbiamo un rapporto di condivisione abbastanza È ovvio che si parla, ricordiamo che all'inizio proprio della pandemia alcune case di riposo ebbero dei problemi, se non ricordo male, vado così a memoria e furono dirottati a Contigliano se non sbaglio, quindi c'è stato questo tipo di collaborazione credo anche necessaria Assolutamente sì, in un periodo di completa emergenza abbiamo agito in sinergia insieme all'azienda sanitaria che è insieme al comune di Riedi perché poi i problemi hanno investito diversi comuni abbiamo trovato una soluzione che credo anche nell'ottica sia sanitaria sia soprattutto dei pazienti sia stata la scelta migliore in quella frangente Allora, tornerei al 2019, quindi tutto è cominciato nel 2019 quando lei è stato eletto sindaco, giusto? Esatto Che cosa succede? A un sindaco di Grecia appena eletto, dopo qualche mese, arriva un ospite ma neanche proprio l'ultimo degli arrivati, diciamo, un ospite vestito di bianco conosciuto anch'esso in tutto il mondo, parliamo del Papa mi spiega come è andata, le fasi prima di questo appuntamento, come sono andate? In realtà, diciamo, noi abbiamo saputo di questa visita pochi giorni prima che questa avvenisse e quindi è stata chiaramente una... personalmente sono rimasto assolutamente senza parole nel momento in cui... La telefonata? Mi racconti la telefonata che hanno detto? Allora, diciamo che la telefonata a noi è arrivata chiaramente da Sua Eccellenza il nostro Vescovo Compini Sì, immagino, immagino che ci ha avvertito di questa visita, di questo evento e da lì in poi abbiamo iniziato da subito chiaramente insieme alla comunità francescana, alla diocesi, chiaramente al Vescovo a lavorare perché tutto questo fosse un evento importante per la nostra comunità ma più in generale perché effettivamente questo messaggio del nostro pontefice rispetto al significato vero del presepe effettivamente potesse arrivare nel miglior modo possibile quindi c'è stata tutta una settimana, neanche cinque giorni di, come potete immaginare, di preparativi incessanti fino al primo dicembre in cui effettivamente si è verificato tutto, è andato tutto molto bene Bene, noi abbiamo seguito dall'inizio, sì, con una diretta di Cristian Diociaiuti, foto abbiamo seguito tutto quanto, tutto quello che possiamo annoverare come un evento che rimarrà per sempre nella storia di Rieti e provincia, insomma, del Riatino La prima cosa che le ha detto il Papa, quando l'ha visto? Chiaramente ho fatto, l'abbiamo ringraziato, l'abbiamo chiaramente insieme in quel momento lì ero insieme al prefetto e abbiamo chiaramente dato il benvenuto a nome di tutta la nostra comunità, l'abbiamo ringraziato e successivamente nel proseguio della sua visita abbiamo, diciamo, regalato, fatto dono di un piccolo omaggio da parte della nostra comunità e poi dopo che chiaramente avete visto tutta l'evoluzione della giornata Bel momento In conto con i bambini, con i nostri figuranti della rievocazione storica Sempre, se non ricordo male, il Papa era già stato il 4 gennaio forse 2016 aveva fatto un'improvvisata e ovviamente poi lei ha citato Domenico Compili, il nostro vescovo, che salutiamo e che aspettiamo qui alla Rana Grande ruolo di Pompili in questi movimenti del Pontefice Assolutamente sì, è indubbio che il nostro vescovo, Monsignor Pompili, ami tantissimo il nostro territorio abbia anche un legame particolare appunto con il mio paese, con Greccio e di questo appunto lo ringraziamo perché chiaramente anche molto di quello che si sta facendo anche in previsione dell'ottavo centenario del primo presepe è sicuramente anche frutto del suo impegno con la valle del primo presepe insomma con un percorso cominciato già anni fa Molto bene, finiamo sì, questo discorso mi interessava tra un po' due anni circa, 800 anni dal primo presepe anche qui una data penso che da ricordare una data che si preannuncerà storica ci aspettiamo un'altra visitina, no? Noi in questo momento la speriamo quindi confidiamo che si possa giudicare da quanto è avvenuto e da quello che è appunto il quanto sia importante per il Pontefice, Greccio, San Francesco e il presepe immagino e spero insomma che questo possa verificarsi in quest'anno che chiaramente come ha detto precedentemente è fondamentale non solo per Greccio ma credo per tutto il nostro territorio anche in termini diciamo di indotti lo aspettiamo il Vescovo se ci sente ci faccia sapere organizziamo magari non una settimana prima no, non lo cerchiamo organizziamo un po' meglio così ci strutturiamo meglio a parte di scherzi confermo aspettiamo il Vescovo qui alla Rana nel Pozzo che è un bel personaggio il Vescovo, ci piace, ci piace molto assolutamente torniamo a Greccio prima abbiamo parlato di casacche, di squadre cioè lei è appassionato di calcio oppure? sì, sì, se lo seguo tifoso? tifoso di che? della Juve della Juve benissimo, lei è un ospite gratisissimo sin dall'inizio avevo capito c'è un impianto, chiamiamolo così un campo di calcio che io ricordo quando ero ragazzo venivamo a giocare non c'è più diciamo che è in stato di adesso di abbandono e sicuramente è uno del compatibilmente con quelle che sono diciamo saranno le nostre risorse sicuramente è uno degli obiettivi di questa amministrazione riportare quell'impianto al decoro e soprattutto renderlo di nuovo fruibile per la per la comunità quindi confidiamo anche in questo senso faccio anche una sorta di appello rispetto ad eventuale presenza di imprenditori che vogliano comunque diciamo confrontarsi con l'amministrazione per trovare anche una compartecipazione per una nuova rinascita anche di questa struttura così importante bello, bello via del vivaio, no? se non ricordo male? sì, la zona è lì vicino lì vicino allora chi ci ascolta, qualche imprenditore tiriamo fuori qualche soldino, aiutiamo il sindaco e facciamo un bel campetto noi veniamo lì con le nostre telecamere anche perché ci sono molti bambini poi sicuramente sì, c'è una scuola insomma scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria insomma sicuramente ci sarebbe un bel bacino ecco bene, bene e sul turismo abbiamo fatto anche ovviamente quello che abbiamo detto finora del Papa tutte le cose che abbiamo detto è determinante per il turismo e il turismo in questo caso religioso che coinvolge tutta la sua comunità c'è qualcosa che si può fare di meglio? c'è qualcosa in previsione? allora, il nostro principale come posso dire, binario o comunque asset su cui stiamo lavorando chiaramente è come abbiamo accennato prima è il 2023 quindi l'ottavo centenario stiamo lavorando in funzione di quello stiamo lavorando localmente con il comitato Creccio 2023 che nasce sull'esperienza della valle del primo presepe quindi coinvolge già il comune di Riedi la provincia di San Bonaventura e chiaramente la Curia e allo stesso tempo però stiamo lavorando anche a livello ministeriale grazie all'emendamento in legge finanziaria che è stato portato per finanziare le iniziative legate all'ottavo centenario lavoriamo in questo doppio filone per far sì di arrivare pronti al 2023 sul resto stiamo facendo degli interventi migliorativi per la fruibilità da parte di tutti i turisti quindi non so perché Creccio è turismo religioso ma non è solamente turismo religioso esistono tanti cammini per cui stiamo lavorando attraverso una serie di progettualità peraltro già finanziate sui tratti del rifacimento e sull'ammodernamento di alcuni tratti del cammino di Francesco abbiamo ultimamente vinto un piccolo finanziamento per l'adeguamento del parco di Fonte Lupetta che è così importante per la comunità e anche perché dovremmo renderlo fruibile anche per i visitatori quindi diciamo ci muoiamo su diversi ambiti soprattutto partecipando a bandi e cercando il più possibile anche che con le nostre risorse alcuni lavori sono stati fatti anche dalla piazza se non lo ricordo male quelli sono terminati c'è tutto il cammino degli artisti esatto assolutamente sì sì, per chi non lo sapesse non c'è solo il santuario a Grecia a Grecia c'è un paese veramente carino dove tra l'altro si mangia benissimo in tutti i vostri localini dove potete andare si mangia benissimo e poi c'è anche il nostro Museo Internazionale del Presepe che per noi è un vanto che peraltro adesso è stato oggetto di un ulteriore finanziamento per il terminare i lavori e quindi renderlo completamente fruibile adesso è attualmente aperto e fruibile però diciamo sarà migliorato da questi interventi soprattutto la parte che congiunge le due ali del museo che ospita tantissimi presepi provenienti da tutto il mondo di diversi arti e di diversi artisti e quindi insomma è un punto è pubblico, è comunale e quindi è una cosa che ci rende particolarmente fieri Molto molto bene Allora torniamo a una cosa un po' c'ho due curiosità e poi ci salutiamo Spesso pubblichiamo la storia degli animali vaganti a limiti di Greccio soprattutto ma com'è questa storia? Che succede? Allora quello degli animali vaganti che è una peculiarità credo Capita però Capita da noi è particolarmente come posso dire attenzionata però sicuramente è un problema che da diversi, da tanti anni effettivamente colpisce la nostra zona perché ci sono questi principalmente questi animali che rendono pericoloso sia per le macchine ma anche per le colture e così come per i singoli effettivamente il percorso in alcune zone Questo è un problema che abbiamo affrontato fin dall'inizio perché l'abbiamo diciamo preso un pochino di petto e diciamo lavorando insieme ai carabinieri forestali rispetto alle altre autorità all'azienda sanitaria siamo dovuti arrivare in alcuni frangenti più in cui il pericolo era comunque maggiore anche addirittura ad emanare delle ordinanze di abbattimento nostro malgrado di questi animali per fortuna non c'è stato bisogno per cui è rientrato ad oggi però abbiamo risolto stiamo risolvendo il problema perché abbiamo firmato una convenzione con un'associazione di veterinari che procederanno attraverso un monitoraggio attento del territorio a verificare dove questi animali effettivamente si trovano ed eventualmente procedere con una attività di telenarcosi per cui diciamo meno come posso dire meno pericolosa anche per gli animali stessi e così da garantire però allo stesso tempo la sicurezza che è prioritaria dei nostri concittadini sì c'è da dire una cosa non so se è d'accordo lì si corricchia un po' troppo in macchina quando si arriva da limiti vero? verissimo grazie alla provincia adesso stiamo mettendo spero nelle prossime settimane si verifichi dei dossi per limitare appunto la velocità soprattutto nella frazione di limiti che è quella effettivamente in cui nonostante sia un centro abitato le macchine anche un autovelox avete pensato? un autovelox lo stiamo rimettendo questo qui si inquadra in un altro diciamo aspetto che mi rende particolarmente fiero devo dire che abbiamo ricostituito proprio adesso in questi giorni il nostro gruppo di polizia locale perché dato che ci sono stati diversi pensionamenti e così via non avevamo di fatto più un reparto di polizia locale adesso l'abbiamo ricostituito a tre diciamo tre addetti fra cui un responsabile per cui adesso diciamo sicuramente tutto quell'ambito che anche il controllo del territorio sarà sicuramente più efficiente quando si ricostituisce la municipale come si diceva un tempo adesso locale è importante sì sì bella cosa questa qua e andiamo un po' più piano perché dopo limiti passate quelle curvette voi che ci sentite che avete capito di che cosa stiamo parlando si corre un po' troppo in macchina c'è il problema degli animali vaganti che non è un problema solo di Greccio parliamoci chiari dove in queste comunità soprattutto nelle nostre ci sono gli animali che possono attraversare quindi andiamo un po' più piano e stiamo un po' più attenti e poi metteremo un autovelox occhio ha detto il sindaco quindi ci saranno delle multe ci saranno delle veloci Italia Viva che dice si incavola adesso in questo momento non so però diciamo sicuramente abbiamo la battuta perché Italia Viva è un oppositore della sua giunta ogni tanto ci scrivono salutiamo Miccatei di Miccatei di Italia Viva che si è diciamo reso autonomo rispetto al gruppo della lista di di Rosati insomma qui è stato appunto entrato in consiglio comunale sì abbiamo uno scambio dialettico vivace giustamente lo svolge il suo ruolo di minoranza e di controllo rispetto all'attività amministrativa per cui c'è un confronto speriamo nel futuro possa sempre essere più costruttivo perché poi effettivamente nelle piccole comunità bisogna tutti un pochino contribuire a fare in modo di fare le cose per bene Miccatei si un po' più tranquillo aiutiamo Fabio e la sua giunta lavoriamo tutti insieme Miccatei un saluto ovviamente abbiamo quasi finito l'ultima cosa hanno tutti i problemi con l'APS non è che per caso anche Greccio ha problemi allora Greccio chiaramente ha problemi come relativamente a tutto quello che è il servizio idrico come purtroppo la maggior parte dei comuni nella nostra provincia il passaggio ad APS è stato un passaggio appunto come tutti sappiamo l'evoluzione quindi è inutile diciamo ricordarla nel suo sviluppo sicuramente quello che già nel quest'inverno noi come gruppo di sindaci all'interno dell'assemblea del lato abbiamo comunque posto una serie di problematiche ad APS rilevando che determinati aumenti rispetto alla tariffazione erano comunque inadeguati soprattutto agli investimenti che ancora stentano in alcuni territori a vedersi fra cui il nostro che necessita chiaramente di una serie di interventi importanti che speriamo APS diciamo faccia nei prossimi soprattutto in previsione anche della prossima di questa stagione estiva ma soprattutto rispetto alla situazione attuale la criticità rilevata dai comuni sono questi diciamo tariffe questi bollette che APS sta emettendo ai comuni per le fontanelle per tutte le strutture pubbliche questo a giudicare da quello che sento anche dai miei colleghi Grecia ancora non è arrivata credo arriverà a breve sicuramente sono delle bollette che sono assolutamente fuori da ogni raziocinio per cui chiaramente chiediamo adesso faremo un'assemblea il 24 mi sembra con tutti i sindaci del lato per appunto discutere questo e fare in modo che APS torni indietro rispetto a quelli che sono poi di fatto i suoi soci altro appello oggi facciamo una serie di appelli però può darsi che arrivi magari qualcuno potrebbe arrivare anche questo APS ha un menaggiamento insomma importante ma io credo che non ci siano problemi a sedersi in un tavolo a risolvere queste cose sia con i loro soci i comuni sia con i cittadini penso che a volte è molto più difficile e complicata di come potrebbe andare assolutamente ci si siede perché molto spesso è chiaro che poi anche se diciamo il gestore diventa APS per il cittadino il referente rimane comunque è giusto che sia così il comune da un punto di vista come posso dire di front office per cui giusto risolvere i problemi insieme sia per i comuni ma soprattutto per gli utenti molto bene grazie siamo arrivati alla fine grazie Fabio bella chiacchierata anche con i sindaci che ci vengono a trovare del nostro territorio volevo farvi vedere indovinate che cosa il nostro free press lo conosce il nostro free press assolutamente sì insomma non potremmo non conoscere grazie grazie sta andando molto bene lo ripeto sempre perché quando le cose vanno bene è giusto dirlo e insieme al nostro free press che sta è gratuito ricordo scusate eccolo qui è gratuito il primo giornale gratuito della città quotidiano dal martedì al sabato vedete informatevi e vedete dove si distribuisce comunque anche nelle edicole cittadine e negli altri punti di interesse il mensile il caffè che adesso farà la sua seconda apparizione ecco ve lo apro qualcuno mi dice apri il caffè eccolo qua questo è il caffè mezzo pubblicitario importante costa poco e visibilità pazzesca allora grazie ancora Fabi ci ha dato un sacco di notizie quindi autovelox può darsi che lo mettiamo così andiamo piano l'azzurra greccio mi raccomando noi siamo un po' calciofili ci impegniamo ci impegneremo ok ok e chi abbiamo fatto gli appelli qualche imprenditore locale e limitrofo se caccia qualche soldino siamo ferventi sostenitori siamo contenti della collaborazione pubblico privata in questo senso va bene va bene grazie ancora vi ringrazio ringrazio voi di questa opportunità di questo tavolo che è assolutamente importante anche per approfondire molti dei temi che normalmente magari non sempre facilmente arrivano al al cittadino per cui sono io che ringrazio voi grazie grazie questo ci fa piacere trattiamo gli argomenti anche seri però in maniera anche a volte un po' leggera perché questo è il nostro target grazie ancora ci leggete leggeteci sempre riedilife.com h24 tutti i siti del network a breve ci saranno delle novità anche riguardo a un nuovo sito vi annunceremo tra un pochino e ci vediamo giovedì prossimo qui alla Rana nel Pozzo e lecce